ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è uscito al 10 lotto con il programma 10 lotto twin la prima versione e adesso vi faccio subito vedere perché ho già digitato l'estrazione precedente che era quella dell'11 novembre 2 4 10 12 13 eccetera l'ho già digitata nel mio programma è uscito i seguenti numeri che vedete sotto l'ora 56 vediamo insieme 56 preso 48 preso il 4 preso di 76 no purtroppo perché cito 74 il 60 preso e preso anche nel numero oro preso e il 36 invece purtroppo ci ha tradito uscito 37 su sei numeri questi sono i miei programmi potete trovarli quando volete non sempre esce così perché a volte esce poco nulla o 2 o 0 no 0 difficile però magari 2 esce poca roba però tante volte esce anche qualcosa di buono quindi volevo far vedere questa cosa niente vi lascio ai prossimi video ci sentiamo il prossimo video come ho detto adesso vi lascio il link sotto mi raccomando cliccate sul like iscrivetevi sempre di più se vi fa piacere e niente ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti ciao